Il sindaco Mattia Palazzi ha consegnato una targa ai biancorossi del calcio a 5 Caus Mantova per esprimere vive congratulazioni per la prestigiosa promozione in serie A della squadra. La cerimonia si è svolta oggi nel palazzo municipale di Via Roma. Il primo cittadino ha elogiato la società per il suo percorso dalla D sino alla massima serie. È una società di persone per bene che si è impegnata e che in 5 anni ha conseguito 5 promozioni, quindi davvero i complimenti vanno solo esclusivamente a loro. Io sono felice di aver dato una mano come comune, come sindaco insieme all'assessore allo sport Paola Nobis perché quando qualche mese fa abbiamo letto che insomma valutavano di non iscriversi perché le risorse, il budget cambiano con la promozione in serie A, i costi aumentano. Sono felice che siamo riusciti a dare una mano consentendo l'iscrizione, quello che loro stessi hanno appena detto in aula a consigliare perché era giusto farlo. Adesso naturalmente bocca al lupo, adesso è il campo che dirà come andrà questo campionato, però è certamente un orgoglio per la città che in serie A si è rappresentata a Mantova. Il presidente del Caos Mantova, Daniele Bruschi, affiancato dal direttore sportivo e generale Cristiano Rondelli, ha presentato la nuova maglia dei biancorossi consegnando la numero 1 al sindaco Palazzi con tanto di cognome sul retro. Alla breve cerimonia erano presenti anche i giocatori del Mantova Calcio 5, l'allenatore Pino Milella e alcuni membri dello staff societario e tecnico. La nuova avventura del Caos Mantova prende il via sabato 21 settembre alle 20 al Neolu. Grazie a tutti.